Ora le formazioni da Verona e Siena, Chievo, Modena, Gianni De Cleva. Si gioca, non si gioca ancora qui a Modena, dunque a Chievo, il Chievo presenta, ahia, dunque a Verona, il Chievo presenta in porto a Marchigiani, i difensori Moro, Sala, Bazzagli, Lanna, centrocampo Semmioli, Berlotta, Baroni e Santana, le punte sono Sculli e Cossato. Il Modena risponde con Zacco Pein a porte, i difensori Maier, Cevoli, Ungheri, centrocampo Donizzi, Ponzo, Marasco e Balestri, Mignaroli più avanzato a sostegno delle punte che sono Amoruso e Camara, Provenzali.